Ciao a tutti, benvenuti in un nuovissimo video Questo video sarà un video challenge ideato da me e da Dagnara Ciao tesorino, pocioccona E niente, cosa consiste questa challenge? Questa challenge consiste nel creare più acconciature possibili entro 3 minuti Io già mi sono attrezzata di timer al pc e di foto random Tipo, boh, ne ho prese 12 E niente, le dobbiamo ricreare in questi 3 minuti Chi ne fa di più, diciamo, vince Cosa vince? Vince un bel moncolino d'oro, ovviamente Comunque, io vi mando un grosso bacio e vi lascio direttamente alle acconciature Io non sono parrucchiera, quindi beccatevi sto schifo Iniziamo subitissima con la prima acconciatura Intanto clicco sul timer Uno, due, tre Ok, allora la prima acconciatura è questa specie di coda laterale Così Poi, aspetta Ok Questa la facevo sempre Quando dovevo andare a scuola e non avevo molto tempo Non so se mi vedete Ok Diciamo che ci sono riuscita Sì Prima acconciatura andata Abbiamo due minuti Porca miseria Il tempo vola No, mi si sono toccigliati i capelli, ragazzi Aiuto I miei capelli Viola, viola, viola Ok, passiamo Con la seconda foto Che è questa qui Io sto andando a fare l'ultima Della ragazza Quindi Credo che ha Tipo torciglioni Ok Ce l'abbiamo fatta Seconda andata Cavolo C'è l'ultima minuta Aiuta Allora La seconda La terza Ho sbagliato E' questo Scignone Che Andiamo a fare Cioè dai Ma che schifo In tre minuti Praticamente Ne ho fatta Un e mezzo Andiamo a fare Questo scignone Lo scignone Lo scignone Lo scignone Porca miseria Trenta secondi Trentacinque Scusate Porca miseria Dai che ce la faccio E' il mondo finito Ok Sono riuscita a farne Solo tre Ma è impossibile In tre minuti Dai No ma è troppo Impossibile Cioè no Porca miseria Cioè ne ho fatte tre Dai ma che schifo è Cioè ne ho fatte solo tre Niente E' un epic fail Totale E niente La challenge Finisce qui E' durata subito E' finito subito Uffa E niente ragazzi Spero vi siate divertite Andate a vedere il canale Di Danyara E spero che lei ne riesce A fare due sole Così il mongolino d'oro Lo vinco io Ovviamente scherzo Anche se credo sia impossibile In tre minuti Farne più di tre Già devi fare uno al minuto Neanche il tempo di prendere La spazzola Poi i capelli Ti restano tutti attaccati Quindi no Vi mando un grosso bacio E al prossimo video Ciao Ciao